Il mondo si è rovesciato, Vascorussi che diventa stemio, salutista, bio-vegano e che va in bici per tenersi in forma. Il Politically Correct che si mastica i vecchi cartoni animati della Walt Disney riempiendoli di censure. La pizza con l'ananas e le ciliegie sciroppate. E la fiorentina che vende i propri calciatori solamente alla Juventus. Adesso manca solo che io che sono pelato, mi compri una parrucca di Ricci Folti e mi metta a cantare la canzone brutta di Alessandro Canino e saremo a posto. La pizza con l'ananas e le ciliegie sciroppate e le ciliegie sciroppate. E la Fiorentina che solo vendrà i giocatori a Juventus. Alla che è missinga è che io ho am ballato. I'll buy a wig of fit curls e singe la canzone brutta di Alessandro Canino. E we'll be done.